Abbiamo pensato di unire l'arte alla cultura, tu che ne pensi? Hai fatto benissimo, benissimo, un binomio eccezionale, un sodalizio perfetto. Guarda, funziona, perché in questa grande sala, se tu organizzi una mostra, tra l'altro non organizzo io, ma organizza quella signora che è là, Nicoletta Rossotti, eccola lassù, quella bella signora Mora. Brava Nicoletta, viva le donne! La prossima volta avremo la mostra di Cinzia Ruzzetti, che è una nota e brava pettice romana, ma al di là di questo, questo aspetto funziona, perché è un binomio importante, tu non credi perché sai, la gente poi...